sono già partito non mi fa paura non ho paura ho paura ho paura devi trovare le frecce ... non mi fa no 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 oh come buoni e bravo ferro bravo grande ferro eh andiamo a vedere vabbè dai 60-40 quanto abbiamo fatto sto 60-40 se sto filmato glielo devo mandare a stelluto eh eh beh dai dai 5-4-4 cioè buone 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 vai Luca buone